e controllata fa il video fa il video che sta ancora andando figa l'abbiamo trovata lui vedete hai guardato la vicino muretto la ringhiera che c'era il murettino si si saluta che l'abbiamo trovata mauri dove era mauri che è mezzasera dai ostia stavi fotografando la pianta è lì sul muretto della pianta era lì sotto muretto della pianta